1960, in più, o più corvolmente chiamato, figli di fiori. Il movimento nasce negli anni 60 in America e si diffonde presto a tutti i colori. Questi ragazzi avevano invitato a parte dei tipici per meci e avevano creato delle comunità in cui ascoltavano il rock e il psichedelico. Abbracciando la rivoluzione sessuale, l'uso di stupefacenti, mi ammetto d'ordine, per risponderare un'istante di scienze, famosissima. Il festival del 1969 di Houston, dove nasce la grande chitarra di Santa, Maia Son, mi ricorda a lui il grande Jimmy Hendrix. Il festival del 2000, dove nasce la grande chiamata, maia Son, mi ricorda a lui. Il festival del 2000, dove nasce la grande chiamata, maia Son, mi ricorda a lui. Sì, cosa? Buon appetito! Allora quiera que me siga acertando Porque conmigo tu amor de amor Y a te vi di escucharmi a su suciendo Ahora creo que tu me atestando Ahora creo que me sigas amando Porque te quiero perderte amor Y sin ti no puedo seguir viviendo Porque te quiero perderte amor Conf�리os monstruo Pero cortas sin ti Te quiero perderte amor Y y empeñaste amor Te quποes y sobre Y emocionna Se lo rompimos Grazie a tutti 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 Grazie a tutti